E' Natale, è festa di gioia, è nato il Salvatore, nasce l'amore, che viene accanto a noi perché ci ama e chiede di aprire il nostro cuore. Vuole riempirlo, vuole entrare nel profondo del nostro essere, vuole accendere dentro di noi una speranza viva, una forza di un amore grande che purifichi il nostro cuore da tante scorie che ingombrano la vita. Lui è la luce dei cuori, il consolatore supremo delle nostre tristezze, delle nostre delusioni, delle nostre sofferenze, delle nostre solitudini e delle nostre difficoltà. Lui viene per aiutarci, sa che abbiamo bisogno di Lui e ci dice «Venite a me, voi che siete affaticati ed oppressi, io vi ristorerò». Occorre ascoltare e credere che Dio ci ama e si rivela a coloro che lo cercano. Viene con il suo amore, che è promesso di perdono e di riconciliazione. Viene per donarci il suo coraggio, per donarci forza e felicità. La gioia che vedremo nei volpi dei nostri bambini ci riempie di serenità. La venuta del Dio bambino, che viene a noi attraverso le braccia dell'amore, rallegra e scalda i nostri cuori. Che dono grande! Il Signore è vicino, non angustiamoci per nulla. Amiamo e lo sentiremo vicini. Certiamo la gioia nel Signore ed esaudiremo i desideri del nostro cuore. Gioiamo allora, perché Dio ci ama. Gioiamo allora, perché Dio ci ama. Gioiamo allora, perché Dio ci ama. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gioiamo allora, perché Dio ci ama. 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 Dio ci ama. Dio ci ama. Gioiamo allora, perché Dio ci ama. Gioiamo allora, perché Dio ci ama. 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 Dio ci ama.